Andrea Amos, un cogoletto che ha lasciato troppo spazio al Santolcese, soprattutto nel primo tempo. Sì, una partita abbiamo sbagliato l'atteggiamento e loro sono stati più bravi, avevano più voglia e ci hanno battuto. Il campionato è ancora lungo, ci siete anche voi comunque? Sì, per adesso l'abbiamo dimostrato, oggi no, però bisogna saper imparare dagli errori. Fra le altre squadre chi vedi fra le favorite per andare in promozione del vostro girone? No, sinceramente non lo so, noi pensiamo al nostro cammino, ogni domenica dobbiamo vincere e quel che succede poi tirare le somme a maggio.